Good morning a tutti voi e buona giornata. Abbiamo iniziato la grande settimana santa, la settimana in cui cerchiamo di accompagnare Gesù ed essere accompagnati noi da Lui. Siamo al capitolo 12 di Giovanni, sei giorni prima della Pasqua, sono gli ultimi giorni di Gesù. Gesù è consapevole di questo. Ecco le belle campane. Gesù è consapevole di questo, del fatto che siano gli ultimi giorni. Questa cosa qui è particolare, pensiamo noi che sentimenti potremmo avere se sapessimo che sono gli ultimi giorni della nostra vita. Come si rigioca Gesù? Sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro che gli aveva risuscitato dei morti. Qui fecero per lui una cena. Marta serviva, Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparsi i piedi di Gesù, poi gli asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Maria fa una cosa eccedente. 300 grammi di profumo, di essenza, di nardo sono una cosa esagerata. Sono una cosa esagerata come è la gratuità di alcuni gesti, in cui non dobbiamo fare i conti, ma dobbiamo viverli. Questo episodio è molto caro agli evangelisti che lo raccontano con versioni diverse, con donne diverse, però come dire, ritorna ecco. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari? 300 denari sono tanti, un denaro al giorno, era la giornata lavorativa, quindi sono 300 giornate lavorative. Appunto una cifra enorme, però quel numero è significativo, perché Giuda si lamenta che non si è venduto questa essenza per 300 denari e lui sappiamo che lo venderà l'amico per 30 denari. E perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono date i poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro. E' una sottolineatura di Giovanni molto grave. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Non è il primo, è nella cerchia dei discepoli, che fa così. Succedono, sappiamo, gli scandali che ci sono all'interno della Chiesa, ogni tanto, insomma, ce lo fanno dire, ahimè. Gesù allora disse, lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di giudei veniva a sapere, venne a sapere, scusate, che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro. Siamo dopo, appunto, la risurrezione di Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero, ta-ta, di uccidere anche Lazzaro. Incredibile. Perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Appunto, siamo sempre lì e invece di convertirsi di fronte a una cosa del genere, no, vogliono ammazzare anche Lazzaro. È pazzesco. Se non si è disposto, cioè, come dire, se proprio non vogliamo credere, possiamo trovare qualsiasi scusa, qualsiasi causa e non lo faremo mai, ecco. Ma è bello questo gesto gratuito di servizio che fa Maria. Allora godiamoci qualche gesto gratuito, qualcosa che dia profumo alla vita di qualcun altro. Un segno che possa, appunto, inondare la casa di qualcuno. Che bello. Le cose belle della giornata di ieri? Beh, insomma, in questi due giorni ho ancora vissuto molto della gratitudine per la Via Crucis, perché... e ho ricevuto veramente tantissimi messaggi molto, molto belli, molto, molto intensi, quindi sono ancora molto grato per questo. Poi abbiamo iniziato la settimana santa, il rito delle palme, anche se non c'è stata una processione, però è stato un bel momento, ecco. E poi sono ancora andato in piazza e sono contento di aver manifestato con alcuni giovani, con dei ragazzi, perché possano ritornare a scuola, ecco. E lo dicevo già nell'omelia di ieri, ecco, alcuni piccoli segni coraggiosi possono fare tanto. E quei ragazzi che erano lì, seduto a un banco, secondo me hanno fatto un gesto coraggioso, quello di invece di starsene sul divano, di andare a dire noi vogliamo andare a scuola. Ale, buona giornata a voi! Grazie a tutti!